Secondo la storiografia ufficiale, nel pomeriggio del 18 giugno 1815, le sorti della battaglia di Waterloo stavano volgendo a favore di Napoleone. Ma il provvidenziale intervento delle armate di von Blücher, risolse definitivamente la situazione in favore della settima coalizione, guidata dal duca di Wellington. Quello che la storiografia ufficiale non dice, è che le armate di von Blücher erano state decimate da Napoleone all'Ignia appena due giorni prima. Avevano subito una perdita di oltre 25.000 uomini, e arrivarono a Waterloo stremati, dopo una estenuante marcia forzata, e perciò vennero facilmente scomposte dai francesi. A questo punto, il duca di Wellington usò il suo asso nella manica, il suo aiutante di campo, un eroe straordinario che il duca aveva personalmente voluto nel suo stato maggiore. Si trattava del capitano Niccolò Miniussi, un autentico triestino nato in Renavecia, ed essendo triestino, era il solo ufficiale che parlava perfettamente il tedesco. Il triestino si buttò coraggiosamente nella mischia, e assunse il comando di due battaglioni del duca di Nassau, che stavano addirittura ripiegando. Poi, arringò tanto efficacemente i tedeschi, nella loro lingua, da riportarli in linea, e li rinfrancò a tal punto, da essere decisivi nella battaglia finale. L'azione era stata così cruenta, che il triestino fu costretto a sostituire rapidamente, e per ben due volte, il suo cavallo, colpito a morte. Lui stesso, subì diverse ferite, ma volle rimanere in campo, fino alla conclusione di quella terribile ma storica giornata. Il duca di Wellington, fu il primo ad ammettere che la sua azione era stata decisiva, e il triestino fu subito promosso al grado di tenente colonnello. Il principe reggente d'Inghilterra, gli conferì la medaglia d'onore. E ottenne le più prestigiose medaglie austriache, e holandesi, che si aggiunsero alle molte medaglie spagnole. Ma Miniussi, non fu soltanto un eroe leggendario, il vincitore morale di Waterloo, e un fine diplomatico. Fu un vero triestino-asburgico, e non fu certamente un melon. Quando si visita l'Italia, le guide turistiche spesso ci dicono, qui c'era una statua importante, un quadro, o un arazzo. Ma furono prese da Napoleone, e portati in Francia. Ma le guide non sanno, che dopo Waterloo, tutti i paesi depredati, ebbero il diritto, di rientrare in possesso di tutto il materiale artistico razziato. I governi italiani, diedero il compito del recupero, ad Antonio Canova. Invece il governo spagnolo, lo diede al suo leggendario eroe, il colonnello Miniussi. Ma mentre Canova, lasciò in Francia più di metà delle opere razziate, compreso un Giotto e un Cimabue, il triestino portò a termine questo incarico, irto di difficoltà, in breve tempo, e con i più brillanti risultati. Su ordine del generale Alava, e con la scorta di 200 soldati inglesi di fanteria, Miniussi percorse in lungo ed in largo tutta la Francia. Controllò, elenchi alla mano, musei, pinacoteche, gallerie e case private. Cercò tutte le opere d'arte sottratte alla Spagna, durante gli anni dell'invasione napoleonica. Finito il rastrellamento, e formato un enorme convoglio pieno di tesori recuperati, il Miniussi, che noi era mona come quell'altro, non volle riattraversare la Francia. Condusse in salvo il tesoro, fino al porto olandese di Elevoe Suisse, dove venne caricato su una nave battente la stessa bandiera, che lo trasportò felicemente fino a Cadice. Da questa città, il prezioso materiale fu inoltrato alla volta di Madrid, e dalla capitale riconsegnato ai musei, e ai legittimi proprietari. La rischiosa e delicata impresa, portata a termine con tanta perizia e rapidità, gli valse altre medaglie, e divenne membro d'onore della Reale Accademia di San Fernando. Niccolò, Gaudenzio, Vincenzo Miniussi, nacque a Trieste, in Renavecia, e fu battezzato nella chiesa di Santa Maria Maggiore, il 22 gennaio 1788. Era figlio di Giacomo Miniussi, detto Caponi, di professione caffettiere, e di Margherita Giorgetti. Divenne il generale più decorato di Spagna. E per molto tempo l'attività militare lo trattenne lontano dalla sua città natale. Ma i suoi contatti con Trieste furono sempre intensi. Particolarmente affettuosi, furono i contatti epistolari con il fratello Giacomo, proprietario della farmacia Alcastoro, tuttora esistente, in via di Cavana. Inoltre, ebbe regolari contatti anche con il nipote prediletto, Leopoldo Colnuber, a quel tempo uno dei più rinomati architetti triestini. Niccolò, amava talmente la sua città, che nel 1848 pensò di abbandonare la sua brillante posizione in Spagna, per assumere il comando della Guardia Nazionale, a Trieste. La rivoluzione, non consentì la realizzazione del suo generoso progetto. Però ebbe rapporti amichevoli con dei personaggi di rilievo, fautori del progresso economico di Trieste, il barone Carlo Ludovico Von Brook ed il conte Francesco Stadion. Ma torniamo alla nostra storia. Nel 1797, nel 1805 e nel 1809, Trieste era stata occupata dai francesi, che troncarono una florida situazione economica in fase di pieno sviluppo. Nel 1809, Miniusi terminò gli studi con profitto. Era leale, di carattere, ma ardito, ed avventuroso, e assai critico ai francesi, a cui imputava la rovina economica della città. Era fortemente critico, anche alle idee giacobine, e si arruolò in uno dei due battaglioni di cacciatori, comandato dal conte Paolo Brigido. L'esito negativo, dello scontro di Prevallo, segnò la fine dello slancio patriottico offerto dai volontari triestini, ed i due battaglioni battuti, e dispersi, vennero sciolti. Ma Miniusi non si arrese, e poco dopo si arruolò nel battaglione istriano della Landwehr, dove venne promosso al grado di alfiere, e divenne aiutante del maggiore Sclechter. La conclusione sfavorevole della campagna, trovò Miniusi a fiume, amareggiato, ma anche fermamente deciso a battersi ancora, appena se ne fosse presentata l'occasione. E l'occasione si presentò. A fiume c'era la fregata spagnola Paz, per rilevare il ministro di Spagna a Vienna, Domeusebio Bardai Iazzara, ed il suo segretario. Miniusi, si dichiarò a disposizione del governo spagnolo, per lottare contro i francesi, nella penisola iberica. Al ministro spagnolo, Miniusi sembrò una persona retta, fidata, coraggiosa e intelligente. Perciò, malgrado la sua giovane età, gli affidò una importantissima missione. Doveva consegnare all'ambasciatore di Spagna a Costantinopoli, Don Ioanni Abat, un plico con documenti estremamente riservati, e doveva consegnarli esclusivamente per via di terra. L'audace triestino, con la scorta di un solo giannizzero, attraversò in breve tempo, e con i più svariati mezzi, la Slavonia, l'Ungheria e la Transilvania. Erano paesi, dove il brigantaggio era una vera industria nazionale. Ma passato il confine ad Orsova sul Danubio, entrò in territorio ottomano, e arrivò in collume a Costantinopoli. Consegnati i documenti, il Miniusi si portò a Smirne, dove una nave spagnola partiva per Cadice, e vi arrivò dopo 42 giorni, atteso dal ministro che aveva conosciuto a fiume. Qui, ebbe inizio la sua straordinaria avventura, dove conobbe i maggiori protagonisti della storia d'Europa, nel periodo dal tramonto di Napoleone I, e l'ascesa di Napoleone III. Con il Trattato di Fontainebleau, la Spagna, nel 1807, venne invasa prima dall'armata del generale Junot, e poi da quella del maresciallo Murat, con oltre 135.000 uomini. Queste truppe, dovevano difendere la penisola dagli inglesi. Madrid venne occupata, e ci fu una violenta sommossa, subito sanguinosamente repressa dal Murat. Napoleone, ottenne dal re Carlo IV, la rinuncia al trono di Spagna, e dai possedimenti americani. E la rivolta di Madrid, fu un segnale di riscossa per gli spagnoli. Il nuovo re di Spagna, Giuseppe Bonaparte, entrò a Madrid il 20 luglio 1808. Ma dopo soli dieci giorni, in seguito ai rovesci militari, fu costretto a scappare precipitosamente. Ritornò nella capitale, nel successivo dicembre, accompagnato dal suo augusto fratello, ma anche da una considerevole armata francese. La rivolta dei patrioti spagnoli contro lo straniero, si organizzò in aprile 1809, con lo sbarco a Lisbona del generale inglese Vellesley, il futuro Lord Wellington. Ma il 1809, fu un anno infelice per gli insorti, e per i loro alleati inglesi e portoghesi. Anche perché disponevano soltanto di 65.000 uomini, contro ben 250.000 francesi. Ormai, tutta la penisola era occupata dalle truppe francesi, meno Cadice, dove nella vicina isola di Leon, aveva trovato sede la giunta centrale, poi consiglio di reggenza. In quel momento così precario, e così poco propizio ad accendere entusiasmi di pronta riscossa, verso la metà di maggio del 1810, Niccolò Miniussi sbarcò a Cadice. In quella città, dove Eusebio Bardai Ilazzara, ora ministro della guerra, nominò il giovane triestino, tenente nel secondo battaglione della legione straniera di Tarragona. Il triestino, fu aggregato alle guardie reali del capitano Olandaguru, e partecipò all'azione che costrinse i francesi a togliere l'assedio all'isola di Leon. Questo fu il suo battesimo del fuoco in territorio spagnolo. Nel febbraio del 1811, prese parte allo sbarco degli spagnoli a Tarifa, che portò alla vittoria di Chiclana. E il valore di Miniussi fu segnalato alle superiori autorità militari. Poi, si imbarcò con i reparti del generale Zayas, che si diressero verso Ayamonte, dove il 16 maggio partecipò attivamente alla famosa battaglia di Alguera. In quel determinante combattimento, nelle truppe al comando del generale inglese Blake, l'audacia e l'esempio del Miniussi, contribuirono efficacemente alla vittoria. Quel generoso contributo, venne subito riconosciuto dai superiori, tanto che il 26 dello stesso mese, fu promosso al grado di capitano. Nella medesima stagione, il neo-capitano prese parte all'assedio della fortezza di Niebla, e in seguito, venne nominato aiutante di campo del conte di Villamour. Quando il maresciallo francese Marmont ripassò il Tago, Miniussi venne trasferito a Valencia del Cantara, agli ordini del generale Castanos. Il 6 aprile 1812, prese parte alla conquista della città di Bavdaioz, e dopo alcune missioni diplomatiche a Lisbona, fu incorporato nell'armata di Lord Wellington. Infatti, dopo la vittoriosa battaglia di Talavera, al generale inglese Vellesley, era stato concesso il titolo di Lord Wellington. Il 13 giugno, questo esercito marciò verso Salamanca, e nel percorso vennero presi d'assalto i forti di San Vicente de' Benedictinos, di Mercenarios, e di San Gaetano. A tutte queste operazioni, prese validamente parte l'ufficiale triestino, che si trovava nello stato maggiore del generale Morillo. Terminate positivamente queste azioni, il Miniussi venne nuovamente inviato a Lisbona, questa volta l'autore di messaggi segreti, trasmessi dal generale Castanos. Conclusa favorevolmente la sua missione a Lisbona, il capitano rientrò nell'armata, giusto in tempo per partecipare alla decisiva battaglia di Vittoria. Il 21 giugno 1813, inglesi, spagnoli e portoghesi, inflissero una umiliante sconfitta ai francesi, comandati dal re Giuseppe Bonaparte, e dal maresciallo Jourdan. Nel sanguinoso scontro, i francesi persero 6.000 uomini, e gli alleati quasi 5.000, ma l'armata napoleonica fu battuta, e costretta alla fuga. Lasciò in mano ai vincitori, oltre 2.000 carri pieni di armi e munizioni, nonché 151 cannoni, molte armi leggere, e 415 casse piene di merci preziose e opere d'arte. Il valore del capitano triestino, venne di nuovo messo in risalto durante l'epica battaglia, e il suo coraggio, venne nuovamente segnalato al Ministero della Guerra. Agli ordini diretti di Wellington, Minius inseguì il nemico in fuga, varcò i pirenei e si spinse fino a Bayona, ricacciando a nord le truppe francesi del maresciallo Saul. Soltanto l'inclemenza dell'inverno, fece sospendere quella vittoriosa campagna. Ma già nel febbraio dell'anno seguente, le truppe di Wellington costrinsero Bayona alla resa. Il triestino, ebbe l'ordine di cacciare il nemico dal monte a ribelza, per far passare le forze spagnole del generale Morillo, e quelle inglesi di Lord Hill. Alla testa di due compagnie di cacciatori, Minius si assaltò la munita posizione nemica, che conquistò dopo un spericolato e furioso corpo a corpo. Durante questa azione così ardita, il triestino fu colpito da un proiettile di fucile, che gli fracassò la mandibola, e gli recise la carotide destra. Ma fu soccorso, e non morì. Nei rapporti ai loro governi, sia Wellington che Morillo, illustrarono l'eroismo di Miniussi. E il triestino, non ancora guarito, prese parte anche all'assedio di Navarrens. Ma ormai, la situazione militare di Napoleone stava precipitando, ed il 4 aprile dello stesso anno, l'imperatore fu costretto ad abdicare. Miniussi, parlava perfettamente italiano, spagnolo, francese, tedesco e inglese, e condusse felicemente a termine, missioni diplomatiche sempre più impegnative. Il primo agosto 1814, venne inviato urgentemente a Vienna, con importantissimi documenti, necessari allo svolgimento dello storico congresso. Ma l'ambasciatore di Spagna, Don Pedro Labrador, a cui erano diretti i preziosi dispacci, ne approfittò per inviarlo a Londra, con documenti altrettanto importanti. Il triestino, si fermò a Londra, presso la corte di San Giacomo, fino ai primi giorni di aprile dell'anno seguente, poi ripartì alla volta di Vienna. Ma giunto a Bruxelles, venne informato che il congresso era stato sospeso, a causa della fuga di Napoleone dall'isola d'Elba, e del suo rientro in Francia. Nello stesso tempo, Lord Wellington chiese ufficialmente alla Spagna, di trasferire i miniussi nel nuovo esercito alleato, e lo volle nel suo stato maggiore. Come abbiamo visto, fu una decisione molto saggia, e determinante. Il triestino si coprì di gloria, e in seguito recuperò tutti i tesori spagnoli, razziati da Napoleone. Ormai la Spagna, memore grata, considerava il triestino Niccolò de Miniussi, come uno dei suoi figli migliori. Fu un affetto pienamente ricambiato, e reso ancora più solido, dal suo matrimonio con Donna Maria del Carmen, sorella del prode generale Torrillos. Rito celebrato, il 15 dicembre 1820. Trascorse un anno a Vienna, come ha detto militare all'ambasciata spagnola. E nel maggio 1821, il colonnello Miniussi ritornò in Spagna. A Toledo, fu nominato tenente colonnello, e comandante del reggimento imperiale Alessandro. Ma dopo un triennio liberale, il re Fellone, Ferdinando VII, volle ripristinare l'assolutismo, con l'aiuto dei francesi del generale Donadieu, e dei centomila figli di San Luigi. Miniussi li combattè, nel 1822 nella Navarra, e nel 1823 a Barcellona. Durante questa positiva operazione, fu ferito gravemente, ma fu soccorso, e al suo passaggio, fu fatto segno dal lancio di fiori dalle finestre. Ben che ferito, uscì da Barcellona per liberare Figueras, assediata dai francesi, e ci riuscì. Ma il giorno dopo, venne circondato da preponderanti forze avversarie, e fu costretto a capitolare, con l'onore delle armi. Miniussi, assieme agli eroici superstiti, venne fatto prigioniero e condotto in Francia. La dura prigionia, si trasformò in esilio, perché tra il 1823 e il 1833, in Spagna ci fu il nefasto decennio della seconda restaurazione. Niccolò Miniussi fu esule in Francia, Belgio, Olanda ed Inghilterra, ed è probabile che in quel periodo, sia tornato a Trieste, a trovare il fratello Giacomo, e il suo diletto nipote Leopoldo, figlio della sorella Lucia, e dell'ingegnere Giuseppe Colnuber, in quel tempo, direttore delle Imperial regge fabbriche e strade a Trieste. Nel 1832, fu uno dei revattori del periodico EI Filantropo, una pubblicazione di tendenza liberale che si stampava a Parigi. Nel 1834, con la reggenza di Maria Cristina, la Spagna era tornata liberale. E Miniussi poteva rientrare, assieme agli esuliei proscritti, e riprese regolare a servizio. Il 30 marzo dell'anno seguente fu accolto, dal Ministero della Guerra, il suo progetto di difesa marittima delle coste spagnole, con delle cannoniere. Ma i razionari carlisti, si ribellarono appoggiando le pretese del Duca di Molina, e il Triestino, fu impiegato in molte operazioni, contro le loro formazioni armate. Particolarmente gravi furono, dal 1833 al 1840, le campagne in Catalogna, nella Navarra, nei Paesi Baschi e nelle Sturie. Fu una lunga serie di scontri, che insanguinarono la Spagna per decenni, e lasciarono profonde divisioni, e risentimenti. La lealtà del Miniussi, verso il legittimo governo, non venne mai meno. Ma queste ingrate campagne, logorarono la sua gemma e ferma salute. Nell'ottobre del 1835, fu incaricato di distruggere diverse bande, nella Sierra Morena. Alla testa di 1800 fanti e 120 cavalieri, portò brillantemente a termine l'operazione, in soli 23 giorni. L'anno dopo, combattè contro gli insorti dell'Aragona, catturando armi e prigionieri. E poi a Bilbao, occupata dai carlisti. Assieme al generale Espartero, combattè la sanguinosa battaglia di Lucana. E il valore dell'ufficiale triestino, venne aditato come esempio di alte virtù militari. E quando, le truppe governative tornarono a Bilbao, Espartero, futuro reggente di Spagna, volle che il primo ad entrare trionfalmente in città, fosse l'eroe triestino. Per questa vittoria, nel 1836 gli fu conferito il grado di brigadiere, fu proclamato benemerito della patria, e gli vennero consegnate le insegne di commendatore, dell'Ordine di Isabella la Cattolica, e la Gran Croce dell'Ordine di San Ermene Gildo. Il 17 dicembre 1837, venne nominato comandante della provincia di Ciudad Real, e delle relative truppe. Nel gennaio del 1838 combattè i guerriglieri sui monti di Toledo, e nella provincia. Durante l'attacco, i suoi soldati vennero circondati da ingenti forze avversarie. Ma il Miniussi ordinò l'assalto alla baionetta, e dalla testa delle sue truppe, sbaragliò il nemico che fu costretto a ritirarsi. Il 16 agosto 1847, gli fu conferito ufficialmente il massimo grado militare spagnolo, il titolo di maresciallo di campo. Tra il 1844 e il 1848, Niccolò de Miniussi viaggiò in vari paesi europei, fu in Austria, Francia e Germania, e tornò anche a Trieste, ma mancano notizie dettagliate. Nella capitale austriaca, fu testimone della rivolta del marzo 1848, e la descrisse nelle lettere inviate al fratello Giacomo, e dal nipote Leopoldo. Anche a Parigi, fu spettatore, non disinteressato, all'ascesa sul trono di Francia, del principe Bonaparte, nipote del suo grande omonimo. Nel 1841, suo fratello Giacomo, il farmacista del Castoro, andò a trovare Niccolò in Spagna, e così scrisse al nipote Leopoldo Colnuber, a Trieste. Qui, in Spagna, caro Poldele, non sono più Giacomo Miniussi, speziere al Castoro. Ma sono il caballero Gende Miniussir, hermano del grande generale. Il leggendario eroe triestino, diventato il generale più decorato di Spagna, morì dopo una lunga malattia, a Valencia, nel maggio 1868. L'osservatore triestino, del 19 maggio 1868, comunicò la notizia della sua morte, e scrisse che sarebbe offesa gravissima alla patria non ricordare degnamente, uno dei propri figli migliori, il quale seppe elevarsi ai più alti gradi della milizia, coprendosi il corpo di nobili ferite, gloriosamente riportate sui campi di battaglia, ed il petto di numerosissime insegne, a testimonianza di militari e cittadini virtù. A Trieste, ancora oggi, si continua a concedere onori perfino ad aviscutibilissimi generali, che videro Trieste soltanto in cartolina. Il generale Cavorna, ha scritto alla regina, se la vuoi vedere Trieste che la mando in cartolina. Ma 150 anni dopo, vergognosamente, non si è ancora dato il benché minimo tributo, ad un leggendario eroe, che ha dato tanto lustro al nome della sua città natale. Il generale Cavorna, ha scritto alla regina, se la vuoi vedere Trieste soltanto in cartolina. il generale Cavorna, ha scritto alla regina, se la vuoi vedere Trieste soltanto in cartolina. Ci sta